Il Presidente De Simone, perché ci siamo trovati in un'altra con me, guardate che tutte le scelte che riguardano decisioni difficili, questa è una decisione difficile, non c'è una scelta, tutte le volte che vogliono discutere su una determinata di scarico o d'altro, le centrate, le cose diciamo che sono decisioni difficili, però che vanno concettate per il territorio, perché io quello chiedo, saluto il collega Donati. Grazie.